Ammetto di essere in astinenza di unboxing da un po' di tempo e quindi quale buon motivo se non questo video per aprire un pacco Amazon? In realtà mi sono arrivati tanti pacchi in questi giorni però mi sono arrivati non raggruppati ma sparsi quindi ho aperto i vari pacchi senza fare un unboxing per ognuno di questi prodotti. Vi anticipo già magari qualche accessorio che sto provando sono tornato dopo tantissimo tempo sugli speaker Anker più nello specifico sto provando questo Soundcore Mini uno speaker interessante per il rapporto qualità prezzo non so se vi ricordate in passato avevo già provato Anker e sono rimasto molto contento speriamo che vada bene anche per questo dispositivo. Altro dispositivo che ho ricevuto in questi giorni è il telefono Umidigi A3 Pro. Quale motivo l'ho preso? Perché voglio un po' ritestare quegli smartphone sotto i 100 euro e magari raccontarvi la mia esperienza. Ce l'ho già da una settimana circa e anche di questo smartphone ben presto avrete notizie non solo su Instagram ma anche qui su YouTube dove vi racconterò la mia esperienza. Prima di aprire questo pacco vi racconto un po' che cosa sta accadendo adesso su Amazon. Come avete letto dal titolo sono arrivate le offerte di primavera. Di che cosa si tratta? Si tratta di un evento che durerà dal 27 marzo cioè oggi fino al 7 aprile e che cosa ci sarà in questo evento? È un po' come il Prime Day, Black Friday solo che la selezione magari non è ampia come quegli eventi che già conosciamo. Magari è leggermente ridotta ma comunque ci sono tanti gadget, accessori, tanta roba per la casa e non solo a prezzi interessanti. Per questo motivo vi invito magari a dare un occhio ai link qui sotto in descrizione dove troverete la vetrina dedicata a questo evento ma soprattutto troverete il link di ScontiGoGo, il mio canale Telegram dove vi condivideremo le migliori offerte che troveremo durante questo evento. Già ci sono delle offerte online mi raccomando dateci un occhio e magari già vi anticipo come potrete risparmiare tramite una tecnica molto semplice ma prima di mostrarvi questa tecnica easy easy vi apro questo pacco così vediamo di che cosa si tratta. Allora sapete che io sono un grande amante di Alexa e per quanto riguarda la nostra cara assistente vocale che tra l'altro non si è attivata mi piace questa cosa che non si attiva mentre lo metti in una frase ma si attiva proprio quando la chiami. Ho provato di tutto e di più per questo assistente vocale e una cosa che mi ha interessato ma non mi ha convinto troppo per via del prezzo è proprio il settore della videosorveglianza ci sono tanti dispositivi compatibili per la sorveglianza soprattutto cinesoni il problema di questi cinesoni magari la skill non è così tanto. Allora mi sono buttato su un marchio su un marchio che è leader nel settore della videosorveglianza e poi ho visto che la skill è anche stra 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 votata positivamente e cosa ho pensato di prendere ho pensato di prendere questa easy with una telecamera per esterno che in qualche modo integrerò nel mio sistema di sorveglianza. Sapete io sono un affezionato di e-technology però è un marchio che all'inizio mi piaceva ma ancora non si è adattato al mondo di Alexa o Google Home. Easy with invece è molto più avanti e il rapporto qualità prezzo ci sta perché questa telecamera dovrebbe costare sotto i 60 euro. Ho visto anche sempre di easy with che ci sono telecamere sui 40 38 euro una roba di questo genere e se vedo che magari l'applicazione easy with funziona bene mi soddisfa magari di più di technology può essere che rivoluziono di nuovo il settore della videosorveglianza. Notare che sto utilizzando il taglierino che vi ho mostrato nei top gadget di Amazon vedete che quei video servono? Io non avevo più un taglierino che funzionasse bene quello che avevo da 1,50 euro mi si era rotto almeno questo qua è un taglierino svizzero multifunzione che almeno mi taglia i pacchi no? E vediamo un po' sta telecamera che cosa c'è dentro la confezione. Troviamo un manuale di istruzioni quick start drill template che non so cosa sia. Vedo qui che è un ip66 night vision fino a 30 metri potete parlare e ascoltare si collega al 2,5 gigahertz e possiamo inserirci anche una micro sd. Vi faccio vedere la telecamera eccola qui togliamo la pellicola è carina dai materiali devo dire anche di una certa qualità non sembra affatto male. Sempre nella confezione troviamo viti fissaggi robe di questo genere e qui dentro c'è l'alimentatore che permette di utilizzare questa telecamera. Non vedo l'ora di collegarla e magari in futuro vi porterò la recensione come mi sono trovato con questa telecamera. Prima di terminare il video come promesso vi racconto un po' cosa accadrà in questo periodo riguardo le offerte di primavera. Su sconti go go vi pubblicherò tutte le offerte che riterò ovviamente opportune e soprattutto saranno inerenti la smart home quindi magari qualche gadget di Alexa, qualche cosa per Google Home, qualche cosa per la casa, fitness, robe di questo genere. Ovviamente ogni tanto ci sarà anche qualcos'altro oltre la tecnologia. Mi raccomando quindi aprite gli occhi e ogni tanto date uno sguardo alle notifiche magari c'è qualche offerta che vi può interessare. Altra cosa voglio condividere anche con voi amici di YouTube due promo interessanti di Amazon che vi permettono di risparmiare ulteriormente 8 euro. Lo so sono pochi però comunque sono 8 euro in più che magari solo voi riuscite a sfruttare perché magari altri non lo sanno. Una promo riguarda l'installazione dell'estensione di Amazon Assistant. Se voi andrete ad aggiungere al vostro browser questa estensione Amazon vi darà 5 euro che potrete sfruttare sui prodotti venduti e spediti da Amazon. Mentre l'altra promo riuscirà almeno una musica su Amazon Music e vi permetterà di avere sempre 3 euro di sconto disponibili per i prodotti venduti e spediti da Amazon. Queste promozioni ovviamente dovete non averle mai utilizzate in passato. Se ancora non le avete sfruttate vi lascerò comunque qui sotto i link per poterne usufruire e in questi link troverete tutte le informazioni, condizioni per avere questi sconti. Io a questo punto non mi dilungherei troppo anche perché Teo mi sta distruggendo tutto. Adesso fa sempre finta di niente ma vi faccio già notare che mi ha distrutto mezza scatola nonostante abbia qui il cibo. Perché Teo mi fai questo? Perché? E niente io spero che in questi giorni possiate trovare magari l'offerta ideale per voi. Io cercherò di condividere insieme al mio team tutte le offerte che riterrò interessanti. Mi raccomando quindi seguitemi su ScontiGoGo, seguitemi anche qui su YouTube perché presto arriveranno recensioni interessanti. Lasciate un bel mi piace se questo video vi è stato utile e se magari avete sfruttato uno di quei buoni. Seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!